Ciao a tutti i supertennisti, un grande risveglio quello di stamattina, ci svegliamo con Yannick Sinner in finale agli Australian Open 2024. Concede il suo primo set a Djokovic e a Proda comunque in finale. Io non l'ho visto questo match perché ho dei problemi di fuso orario io con quello del torneo in questione. Non riesco a vederlo, devo accompagnare il bambino a scuola, quindi questo mi impedisce di vedere le partite in diretta come mi piacerebbe. Ma quello che immagino, ve lo dico perché è quello che immaginavo ancora prima che giocassero questa partita. Io pensavo da Bialet che avevo visto in precedenza di tutti e due i tennisti che Djokovic rincorreva un po' tanto. L'ho visto non affaticato, è sempre Nova Djokovic, non fraintendetemi ma il confronto con i ventenni si comincia a vedere. Ha dovuto combattere di più in tutte le partite che ha fatto, mentre Yannick Sinner a Proda in finale concedendo solo un set proprio a Nova Djokovic. E io era questo che immaginavo, io pensavo al massimo di concedere un set ma lo batte. E così è stato. Infatti Sinner a Proda in maniera dirumpente in finale perché gioca la pochezza di 118 game in 19 set per arrivare in finale. Perché vi dico ciò? Perché l'altra semifinale che si sta per giocare fra Zverev e Medvedev invece, sono stati più dispendiosi gli sforzi per questi due tennisti per arrivare a quella che sarà la finale. Infatti Zverev ha giocato 134 game, Medvedev 128, entrambi hanno speso 21 set ma devono ancora giocare la semifinale. Quindi chi approderà in finale sicuramente avrà un bel po' più di fatica nelle gambe. E questo va tutto a vantaggio nel nostro Yannick Sinner che si presenta in questa stagione in maniera dirompente, come ho detto prima, diciamo devastante perché in un torneo del genere il primo slam concedere un solo set per arrivare in finale direi che mette le sue carte in tavola. Quindi non ci rimane che gustarci questa semifinale che designerà lo sfinante del nostro Yannick in finale. Niente, viva il tennis e ci sentiamo nelle prossime ore per commentare questi Australian Open e soprattutto il nostro tennista Yannick Sinner. Vai carotina, vai, vai che sei forte, vai!